Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a provare il nuovo fucile a pompa pesante Dico nuovo perché anche se è completamente uguale a quello che già c'era durante il capitolo 1 di Fortnite Lo hanno decisamente modernizzato, è molto diverso ragazzi rispetto a come era prima Cioè è completamente uguale a livello estetico, anche i rumori che fa, però per quanto riguarda il resto è decisamente diverso E oggi lo andremo a provare, lo andremo a provare ragazzi in 3 partite, oggi ci saranno ben 3 partite Le prime 2 saranno nei server privati e poi l'ultima sarà in pubblica, quindi 2 di server privati, una di partita pubblica, molto semplice Prima di iniziare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite e mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre su supporto a un creatore, ci si è scritto GGYT tutto grande, tutto attaccato perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà è fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora questo è fatto, lasciate un bel mi piace perché finalmente hanno aggiunto un altro nuovo pump Spero ci dia un po' di speranza, ora vi auguro una buona visione È arrivata l'ora di testare la potenza di questo pump che è tornato dopo tanto tempo anche se l'hanno modificato un botto ragazzi Cioè non è più quello di una volta, non è più il pump di una volta Sì Beh, non è male Non ho capito molto bene perché comunque gli abbiamo fatto un bel po' di danno Non è molto facile mirarci Meno male che l'ha bloccato Il ferro Mi vuole la mette sotto quest'altro Ma come me vuole la mette sotto? Oddio ma è molto impreciso però eh Allora è molto impreciso Ma quando piglia fa danno Oh Oh mio dio È molto impreciso ma quando ti piglia fa molto danno ragazzi Mi sembra la descrizione più adatta Perché sembra preciso ma in realtà quando non miri non è molto preciso Mentre nel momento in cui miri, guarda qua, è precisissimo Proprio perché c'ha un micro, un micro, una micro mira, un micro mirino Non so come chiamarlo Proprio per questo regà è molto preciso Cioè è molto poco preciso perché è difficile prendere l'avversario Cioè banalmente è poco preciso perché è difficile prendere l'avversario Però quando lo prendi proprio perché alla fine della fiera Ha i colpi piccoli Fa molto danno E non è male ragazzi in realtà come cosa eh Cioè non è per niente male ragazzi Vi devo dire la verità Però è difficile da usare La sensazione è che sia molto difficile da utilizzare Allora regà abbiamo trovato un altro signorino qui sulla via della safe No Uh già stava qui Oh no 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 Io ho capito chi sei Questo è squisi Questo è squisi regà No 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 Scappa Ok regà c'è uno qua Ok l'abbiamo un po' Hittato Così gli abbiamo fatto capire Che lo volevamo pushare No Ok Ok regà ve l'ho detto Non è facile prendere l'avversario eh Non è facile prendere l'avversario Però quando lo prendi Eh il danno si fa sentire Quando lo prendi il danno si fa sentire ragazzi C'è poco da fare Che sta succedendo qua Che sta succedendo qua fuori Oh mio dio con che cattiveria me lo stai dicendo Oh mio dio Ok no C'ho tutto carico Sì ma in mezzo agli alberi no per favore In mezzo agli alberi no Regà 86 da così lontano C'è capite C'è 86 da così lontano regà C'è non è male eh C'è non è Non è ribadisco Non è facile prendere l'avversario Ma Se lo prendi so danni Eh sì Sì regà Penso di poter confermare questa mia piccola teoria Ma penso sia abbastanza ovvia Nel momento in cui vedi un po' come funziona l'arma Potrebbe essere il pump che prenderò sempre al posto degli altri Eh forse sì Forse sì ragazzi Potrebbe essere lui Anche perché comunque fa un bel po' di danno Anche con una rarità bassa Che è banalmente quella verde Ok regà c'è uno Uh No è di nuovo squisi È di nuovo squisi Sfortuna ha voluto che Incontrassi ben due volte squisi E se tipo facessi una cosa del genere E se tipo facessi una cosa Mamma mia regà Che fughe che stiamo facendo Ma di che stiamo parlando Siamo noi i veri Spider-Man Altro che Tom Holland Stanno sparando lì giù Ma io penso di conoscere quello che sta lì giù ragazzi Laggiù c'è Mario E niente No non è Non è squisi Squisi Ah sì 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 è squisi È squisi Appena fatto una kill Quindi è squisi Sì confermato No perché avevo sentito Squisi fare una kill Ma non vedevo nessuno lì Ma da dietro Sì da dietro Eh ma io non ho più maz Non ho praticamente più maz No questo mi sta pushando Non sto capendo Lì giù c'è qualcuno Che sta facendo la tecnica Dell'ammollo ragazzi Ah ma pure da di là Eh vabbè ma se siete da tutti i lati Ditemelo Sì però sparate anche un po' Squisi Sparate anche un pochino Squisi Sparate No regà però io non ho più mazza Lo sono messo malissimo Ma? Ma mi ha lasciato il pump leggendario No No mi ha lasciato il pump leggendario Lol Io pusho quello che sta qua sopra ma? Mamma mia grazie signor Squisi Dovrebbe essere stato lui Ah Mamma mia ragazzi Che Spider-Man che siamo Se n'è andato? Dove vuole andare? Ehi Col cavolo se n'è andato? Ma Dove capo sta? No regà me lo sono perso Ah no ho finito i mazzi Ecco perché No Non ci stavo a capire più niente Era Corvetto Mannaggia ho finito i mazzi Regà non ci stavo a capire più niente Ripperotti Ok Che c'era? Il pump nuovo? No C'aveva lo Striker Va bene Va bene Va bene Meglio di niente per adesso Ma devo trovare il pump nuovo Uh eccolo E' lui? O non è lui? Ma certo che è lui Bianco Bianco perché rimaniamo umili Ma è lui Uh Vedete? Vedete? L'umiltà viene sempre ripagata ragazzi L'umiltà viene sempre ripagata Subito siamo stati ripagati con un bel pump blu Regà ho sentito spari qua dietro Oddio Ma Cioè regà vedete toglie sempre 90 Toglie sempre comunque 90 regà Cioè nel dubbio se tu riesci a prendere il tuo avversario toglie 90 E' pazzesca sta cosa ragazzi Ribadisco E' molto difficile prendere l'avversario Ma nel momento in cui lo prendi Eeeh Non è male Uh Che è rientrato? Si Ma Non si è accorto Oddio non si era accorto che gli avevo fatto il giro regà Allora aspetta Questo qui ce lo prendiamo noi E l'MK7 leggendario in realtà no ragazzi L'MK7 leggendario Oddio si forse ce lo prendiamo Perché tanto adesso ci facciamo lo shieldone Si regà E qua c'aveva più colpi Si qualco il colpetto in più Anzi no regà ci prendiamo lo spray Ci prendiamo lo spray si Regà stanno fightando con la confondazione lì Allora aspettate un po' che voglio fargli il giro a questo qui Maledetto Maledetto ha sparato a me Giustamente eh M'ha visto e mi ha sparato No allora lasciamo stare ragazzi Proviamoci a fare sto airdrop Se ce lo lasciano Ok ragazzi Airdroppino No ragazzi Lancia granate lo lasciamo qua ma Uh da dove? Da dove? Da dove? Ma da dove non vedo nessuno Io sento degli spari da qui Ma non è quello che stava sparando a noi probabilmente Eh vabbè si Ciao Ma in che senso ragazzi? Cioè scusatemi un attimo Cioè in che senso quello dietro di me mi ha laserato in questo modo? Ok regà questo ci sta planando in testa Non ho capito Sì che ci sta No vabbè è pure da dietro Non è una bella situazione No più che altro perché sto Come prima regà Come prima sto sprecando tutti i miei materiali Perché sto facendo tutti sti micro fight E niente L'ho lisciato E l'ho rilisciato Niente Vabbè vado di mitraglietto Ho capito Niente regà E' veramente complicato regà Hittare con sto nuovo pump però Uh questo c'eva la mitraglietta mitica Ottimo Ottimo Questo c'eva la mitraglietta mitica Eh regà E' veramente complicato Prenderci gli avversari con sto pump Ma ve lo giuro E' incredibile Dunque è stato bellissimo sto fight Regà ci siamo impanicati tutti e due È incredibile Io non lo pigliavo Lui non mi pigliava Poi ci siamo chiusi insieme E' stato bellissimo Regà ci abbiamo qualcuno qui mi sa A cui vorrei fare una sorpresina Se ce la faccio Oddio Non ce l'ho fatta Perché mi sono dimenticato Che sta mitraglietta mitica C'ha un rinculo Imbarazzante E No niente regà Non ci Non lo prendo E' impossibile prendere l'avversario Con sto pump regà E' difficilissimo E' fortissimo Ma è difficilissimo Prendere gli avversari Con sto pump E' incredibile Ok ragazzi Allora adesso ci sarà un'altra partita Che andrò a fare in pubblica Quindi una partita pubblica Normale Non più nei server privati Ma volevo prendere questo fight Che è appena finito Per farvi capire per bene Questo pump Cioè E' un pump Che Epic Games Lo ha aggiornato Diciamo così Per farcelo utilizzare Dalle lunghe distanze O comunque Per far utilizzare Un pump Mirando Ed è un po' Una rivoluzione Per quanto riguarda Fortnite Se ci pensate bene Però anche per i fucili Assalto c'è stata una rivoluzione No? L'MK7 che c'ha il mirino Ecco Questo pump Va un po' Su quella falsa riga Cioè Epic ha deciso Di renderlo abbastanza Complicato Da utilizzare Quando non si mira Avete visto che difficoltà Ho trovato io Nell'andare a prendere qualcuno Senza mirare Ma nel momento in cui Miri qualcuno Lo devasti E lo andrete a vedere Anche nella prossima partita Perché farò proprio Dei test E non lo so Che cosa pensare Di sto fucile a pompa Ora dopo la prossima partita Farò altre osservazioni Ricordatevi poi Di farmi sapere La vostra sotto nei commenti Niente Vi lascio All'ultima partita Che fa questo? Oh Super candy Girl Va bene Mi stava sparando Alle strutture Col pump Ah con Oddio dal rumore Mi sembrava Il pump nuovo Vabbè Ok GG per il carnage Però mi ha tolto un botto Mi ha tolto quasi tutto Cioè tutto lo shield Ne avevo 90 Ah raga Ci abbiamo Uno qua Che se sta divertì Col cecchino Ok Va bene Era uno abbastanza tranquillo Ah no Aspettate raga Voglio provare Ah pure questo Mi sembra abbastanza tranquillo Voglio provare una cosa Ah come vi dice No no Vabbè raga Cioè è questo È questo che io vi stavo dicendo poco fa Cioè Epic Games Con questo pump Vuole Tra virgolette Spingerci a mirare Mentre si utilizza il pump Cioè è per questo Che è molto difficile Hittare con questo pompa Perché Ha un ottimo danno Dato che i colpi Sono molto precisi Quindi quando voi mirate così Cioè sparate così Senza mirare È normale Che il colpo È talmente preciso Che è difficile Andare a prendere L'avversario Sì effettivamente Detto così Sembra un po' Un paradosso Ma I colpi sono talmente Tanto compressati Tra loro Quindi compressi Che praticamente È difficile Poi andare a beccare L'avversario Però come vedete Mirando Fa tutto sto danno Anche da lontano Però vi posso dire la verità È difficile Sfruttare un pump Del genere Cioè come pretendi Come puoi pretendere Di fare Un fight Con il pump Mirando Cioè O becchi dei bot Del genere E spari Comunque sì ragazzi Mi sono spostato Dai server privati Alla pubblica Quindi questa qui È una partita pubblica Ho deciso di provare Una pubblica Appunto dopo Le due partite Che avevo fatto Nei server privati Ed è per questo Che comunque erano Dei bot del genere E quindi regà È un po' difficile Cioè Non lo so Non lo so Il pump è sicuramente Ottimo Nel momento in cui Ci prendi La mano Può essere davvero Devastante Io in questi giorni Cercherò di utilizzarlo Il più possibile Però effettivamente È molto complicato Da utilizzare Molto Ok regà C'è uno qua Ok Questo non è sicuramente Un bot ragazzi Questo non è sicuramente Un bot Avevo paura di essermi Beccato La lobby di bot Oddio no In realtà Non mi sarebbe dispiaciuto Va bene Come ha fatto a farmi Tutto sto danno Stavo spammando Le mie Costruzioni Ok Va bene Sarà abbastanza Difficile Uscirne Ok però abbiamo Una jump Regà Potremmo sfruttare La jump No è lampione No è lampione Maledetto lampione Ok regà Mi sta Stanno sparata dietro Ancora Mannaggia Ma che mi hanno seguito Quelli là da pinnacoli Regà Mi sembra mi hanno seguito Quelli là da pinnacoli Però io volevo pushare Eh no niente No regà Non posso pushare questi Perché finché quello là mi segue da dietro Non ci posso fare niente Ah eccolo Mi sa Mi sa che è lui Ed edita Che c'hai paura Pensavo di tasse Regà Ah ma No sono due Regà adesso Ok l'ha distrutto Uno ha distrutto L'altro No No Ma ha distrutto Mi ha distrutto regà Oh mio dio Eh regà Questo è forte forte Si è chiuso Tutto così No Da sopra mi sa che non si era chiuso Regà Oppure si No pure da sopra si era chiuso Si è completamente chiuso Regà Quindi mi sa che era messo Proprio male Eh sì regà Era messo parecchio male Ma ormai si era rinchiuso Qui così E quindi Let's go Oh no Ne sta arrivando un altro Eccolo qua regà Eh no Non l'ho mai preso Solo una volta Ma siamo già in cinque Ma è possibile Siamo già in cinque Regà Qua c'è il classico Fenomeno che avrà distrutto Tutti Ve lo dico io Si sta a curare Perché qualcuno Gli ha fatto danno Eh rip Eh Eh No Ai 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 Eh vabbè Ma perché Perché non mi ha Continuato a buildare Non mi ha più buildato Regà Vabbè Mi è entrato nel box Così Comunque regà Eh che dire Il pump Non lo so Cioè non lo so A livello di danno È sicuramente superiore Agli altri due Di questa stagione Quindi Per quanto riguarda il danno È sicuramente ottimo Il problema è che è abbastanza difficile Da manovrare Da maneggiare Diciamo così E avete visto che quando mira È veramente devastante Però quando vi capita Di mirare su una persona Con il pump Cioè se beccate proprio uno Fermo Se beccate uno Che magari voi siete camperati E lui si sta avvicinando Ok In alcune situazioni può essere utile Però non lo so È molto 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 complicato Da utilizzare Sono curioso di utilizzarlo Da mouse e tastiera Sono curioso Comunque regà Ovviamente come al solito Vi ricordo di utilizzare Il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Al negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Mi raccomando ragazzuoli Lasciandovi al mi piace Fatemi sapere cosa ne pensate Il nuovo pump Sotto nei commenti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non è stato fatto Per me è tutto Ci troviamo domani Un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi